Chiara Ferragni in lacrime. Terribile incidente per la sorella Valentina Ferragni. Purtroppo è. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Durante la settimana della moda a Parigi, Valentina Ferragni, sorella della nota influencer Chiara Ferragni, ha subito un incidente domestico. Attraverso il suo profilo Instagram, Valentina ha condiviso con i suoi fan i dettagli del disavventuroso episodio. Mentre si stava preparando per un appuntamento di lavoro, Valentina è inciampata e caduta dalle scale del condominio. Ho fatto quattro gradini rotolando in avanti e mi sono fatta malissimo. Ho un dolore alla caviglia e si sono anche spezzate le unghie. Che male! Ha raccontato la Ferragni. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi, sebbene richiederà qualche giorno di riposo per la completa guarigione. Valentina ha spiegato come il tacco si sia incastrato nel tappeto, provocando la sua caduta. Vi giuro. Ho fatto una caduta da film. Mi sono uccisa e mi fa male ancora tutto. Curiosamente, ha anche menzionato che non è stata la prima a cadere in quella casa. In realtà sono già caduti tutti e mancavo solo io. Strano che il destino mi avesse graziata fino ad oggi. L'episodio ha suscitato preoccupazione e simpatia tra i seguaci di Valentina. Che hanno espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione. La caduta. Descritta da lei stessa come, incredibile. E quasi cinematografica. Rappresenta un imprevisto spiacevole nel bel mezzo della frenetica settimana della moda parigina. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.